Sono molti i cittadini che desiderano ricevere risposte a delle semplici domande. Se ad esempio possono uscire a fare una passeggiata, dove posso andare a fare attività sportiva ed altre richieste per le quali è opportuno fare un po' di chiarezza. Si può fare una passeggiata? L'invito ai cittadini resta quello di uscire da casa soltanto se è strettamente necessario e dunque la passeggiata sarebbe meglio evitarla, spiega la circolare del Ministero dell'Interno, perché se tutti i cittadini escono di casa per passeggiare all'aperto, strade, parchi e giardini sarebbero naturalmente stracolmi di gente. Se vado a correre al parco o di strada posso essere multato? Tra gli spostamenti consentiti c'è quello per svolgere attività motoria o sportiva all'aperto rispettando la distanza di sicurezza di un metro. In ogni caso è necessario portare con sé l'autocertificazione che serve sempre per giustificare qualsiasi spostamento sia a piedi che con un mezzo. Lo ha previsto la nuova circolare firmata dal capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi. Dove posso andare a fare attività motoria? Non c'è nessuna indicazione in tal senso. Parchi e giardini della città ma anche spiaggio, operati possono essere teatri di attività motoria all'aperto, anche se bisogna sempre considerare che luoghi e lunghi spostamenti dalla propria abitazione per raggiungere questi luoghi difficilmente sono giustificabili. Per evitare che con le belle giornate questi luoghi possano diventare meta di centinaia di persone, alcune amministrazioni comunali hanno deciso di chiudere parchi, ville e giardini pubblici. Altra domanda è legata ai bambini. Si possono portare fuori? Anche in questo caso l'invito è quello di evitare di uscire ma naturalmente far prendere un po' d'aria a distanza di sicurezza in un giardino ai bambini rientra fra l'attività all'aperto e non può essere dunque stanzionato, spiega la circolare. Per fare la spesa o per portare fuori il cane per le sue necessità si può andare in compagnia di un amico o di un familiare? La risposta per la spesa o per portare a spasso il cane la raccomandazione è di andare uno per volta. Si sono già verificati casi in cui i familiari sono stati fermati in due a passeggiare o dal supermercato e uno dei due è stato invitato a tornare a casa. Le piccole botteghe, i mercati alimentari, gli ambulanti sono aperti. Il decreto autorizza il proseguo delle attività di tutte le rivendite piccole e grandi di genere alimentari ai piccoli negozi di quartiere dal forno al macellaio, aperti anche i mercati alimentari ed i banchi degli ambulanti dotati di regolare licenza anche se molti sindaci hanno deciso di ordinarne la chiusura ritenendo che non ci siano le condizioni logistiche per garantire la distanza di sicurezza. Abbiamo voluto dare risposta ad alcune domande semplici per fare chiarezza ad alcuni dubbi interpretativi ma è chiaro che l'invito rimane sempre e soprattutto quello di rimanere a casa e di uscire il meno possibile. Solo in questo modo riusciremo a combattere il virus evitando il contagio e consentendo meglio la gestione negli ospedali.